Musica Con la Notte Bianca Winter Edition si chiude il ciclo di eventi dedicati al commercio per le vie del centro del cartellone natalizio di Castellaneta. Martedì 27 dicembre ancora una volta attività commerciali, stand e artisti di strada hanno atteso e intrattenuto i passanti nonostante una serata fredda e a tratti anche piovosa che di fatto ha impedito l'esecuzione di alcuni spettacoli. Musica Musica Ma l'evento organizzato dall'amministrazione comunale e dalla ConfCommercio e curato dall'agenzia comunicazione è riuscito a regalare momenti di divertimento con le esibizioni di breakdance della Diddley Combination Crew, gli spettacoli di fuoco e la musica del trio, il duo di Duo e dell'orchestra Mancina. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti